E' una situazione che deve essere affrontata il più presto possibile, nonostante l'annuncio di un progetto di finanza per ampliare il cimitero di Termoli, il luogo dedicato ai cari estinti ormai a collasso. Provani sono articoli e proteste che ogni giorno è facile leggere in rete sui vari social network. In qualche modo si tratta di una vera e propria emergenza, in quanto molte persone dopo i funerali non riescono più a trovare spazio all'interno del Campo Santo per i propri cari. Una situazione che in qualche circostanza è stata segnalata anche ai carabinieri, che hanno però potuto solamente constatare quel che sta avvenendo. Già nei mesi scorsi ci sono state diverse esumazioni proprio per reperire più posti possibili, ma ormai è una questione di spazi che mancano. Le bare vengono accumulate nell'obitorio del Campo Santo in attesa di sistemazione, ma questo non fa che arroventare un clima già di per sé surriscaldato, una condizione ormai al limite della decenza e della sopportazione. In tanti chiedono soluzioni al comune anche se ci sono particolari iter in itinere e attese di permessi che evidentemente non ancora arrivano in via Sannitica. A tutto questo si uniscono i disagi che patiscono le agenzie di pompe funebri, chiamate a svolgere mansioni che a quanto pare evidentemente non gli competono. Ma il problema più grande è adesso trovare quegli spazi idoni per i nuovi feretri. Si è parlato nei mesi scorsi di un progetto di ampliamento che consentirebbe al cimitero di essere allargato verso sud negli spazi che si affacciano su via del mare. Non si sa però quali saranno le tempistiche del progetto che ha già fatto discutere per gli elevati costi delle consulenze che si porterebbe dietro e che sarebbero a carico del comune di Termoli. Nel frattempo però c'è una situazione reale e concreta di disagio da dover colmare.